ciao ragazzi benvenuti al nostro nuovo vlog dove siamo oggi amore mio siamo a vedere una colonia che poi penso diventa un sanatorio esatto ragazzi oggi siamo in provincia di varese alle nostre spalle percorrendo un pochettino di sentiero nella natura troveremo una colonia divenuta sanatorio che cos'è un sanatorio dove ti curano dalle malattie esatto era tra l'altro un sanatorio infantile una struttura enorme ci hanno detto essere piena di cose ancora da vedere la curiosità è tanta io voglio andare dentro vediamo andiamo qualcosa di bello andiamo andiamo per fortuna il sentiero è facile la parte sotto di noi è battuta ci sono delle piante degli arbusti a destra a sinistra ma una volta arrivati alla fine si comincia a scorgere un edificio rosastro in mezzo alla vegetazione direi che abbiamo di fronte il sanatorio ed eccola qui ragazzi alle nostre spalle finalmente la colonia lo sai amore mio che questo è un edificio vecchissimo è stato iniziato all'inizio del novecento ed è arrivato al suo massimo splendore a metà degli anni 50 al suo interno c'erano i bambini bisognosi di cure per la respirazione quindi venivano mandati in mezzo a questo verde per respirare esatto per respirare l'aria buona l'azienda che ha gestito questa struttura si chiamava ISL poi è passato tutto nelle mani dell'USL che adesso ovviamente si chiama ISL esatto e al suo interno ci lavoravano dentro le suore molte delle storie che però si dicono su questa colonia non sono proprio bellissime diciamo che i bambini non venivano proprio trattati benissimo ma ve lo spiegheremo più avanti entriamo no 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 Ovviamente nella struttura era anche presente una chiesa Qui davanti vediamo quello che ne è rimasto E siamo fortunati perché c'è una specie di rosone ancora intatto Il vetro non è stato fortunatamente danneggiato Aia questo è tutto che fa male E mi sono graffiato tutto quanto Guardate che cosa è rimasto anche sul muro Molto molto bello La madonna intagliata in una roccia Ma quello che ci interessa vedere se riusciamo ad arrivarci È l'ingresso che come sempre non è facile da raggiungere Voi non li vedete ma vi garantisco che è pieno di rovi Ed eccoci qua sulla porta Ho sentito delle voci Vediamo se c'è dentro qualcuno Cerchiamo un ingresso Amore mio potrebbe esserci un ingresso Eh potrebbe Vediamo se ci fa entrare Abbiamo trovato una porta scendendo Dei vecchi macchinari Anzi questa era la caldaia Questa ragazzi era la caldaia Della struttura dell'impianto Ecco tutti i macchinari Ma con sicurezza posso dirvi Che abbiamo trovato un modo per Per entrare E adesso entriamo La maggior parte delle stanze sono vuote Guardate Queste sono le cucine Ragione queste sono interrato Prima di uscire dalle cucine Volevo farvi vedere Due cose che sono veramente molto belle La prima è questa Ed è un montacalchi Come vedete qui c'erano Gli interruttori Si mettevano le pietanze Dentro A questo scompartimento E si mandava il piano superiore Dove c'era ovviamente la mensa Con tutti i bambini E la seconda cosa Era questa bellissima decorazione Nella porta Quindi si poteva guardare Da una stanza all'altra Semplicemente avvicinandosi Anche se la porta era chiusa Molto molto bello Amore mio siamo arrivati In una stanza Che è facile intuire Che quale sia Dove siamo? Per gli occhi Esatto ragazzi Ci sono ancora Guardate che belli Questi Graffiti Si sono più affreschi Credo anche se in realtà Sono stati fatti per i bambini Forse addirittura Da qualcuno che non aveva Proprio tutta questa esperienza Ma è pazzesco Come si siano conservati Guarda che belle Tutte le Le chiese del mondo C'è l'arco di trionfo Questo invece si vede Che essendo vicino Columidita Eh già Non ce l'ha fatta Girando ci sono delle Porte murate Questi sono veramente Meravigliosi amo Che bello poter vedere Cose intatte In questo modo Parliamo di Disegni che hanno Almeno 50 anni Siamo arrivati In un'altra parte Molto importante C'è anche una chiesa Purtroppo Non è rimasto nulla Tranne L'altare Esatto Hanno purtroppo Rotto anche L'altare E' sempre un peccato Vedere Un luogo sacro Sopra al tetto C'è anche un affresco Eccolo lì E andando avanti Ci avviciniamo All'altare Salendo Su quello che era Sicuramente Uno dei Posti più Visitati La domenica Però guardate Sono rimasti Dei fogli O meglio Degli spartiti Musicali Scritti a mano Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Grazie a tutti.